Sì. Sappiamo che ci hanno criticato. Mi fai i nomi! Dai! Mi nomi! Non li so i 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 nomi! Miki ci vuole bene però! Ci vuole bene! Ci vuole bene! Ci vuole! Ma te di più! No a me no! Ci vuole! Ci vuole! Perché lui è padre, figlio e spirito santo! Ci vuole! No però è andata bene penso. Poi! Ma che vuol cos'è? Scusi! Non li fanno le domande! Non li fanno i discorsi! E poi va mirato! Ti fanno le foto! Sì! Sono stato contento di aver dato un po' di ciò che volevo dare quest'anno! Un po'! Leo! Perché il discorso! Eh! Buttatela dalla piscina! Sì! Un imprenditore che ha vuoto! Un amministratore! Un amministratore! Un amministratore unico! Non vale! Non c'era nessuno che mi ha fatto il picciolo! Non c'era nessuno che mi ha fatto il picciolo! Non c'era nessuno che mi ha fatto il picciolo! È capitato che abbiamo fatto il mister al picciolo! È stata la picciolo! E allora? Ma che gioca? Che sta manando forte! Chi è Gianpaolo? Sì sì sì! Va bene! Chi l'aveva? La Panta! La Panta! Non c'era! Va bene! Abbiamo giocato i battuti! Ragazzi! Posso fare un discorso al più anziano della squadra? Sì sì sì! Sì sì sì! Deve essere sé! Dio il discorso! Non so se ci parli a terzo elementare! E posso dare un annuncio io! E voglio dare anche un annuncio io! Ah! Perché ha di nido! Io e Gianpaolo penso che un futuro lavoro di noi si! Vuole diventare gioccio della mia bancarella al mercato! Dipende sempre se è libero di consenso a liberare di chi! Dipende sempre se è libero di consenso! Ma consenso! E' un discorso! E' un discorso! E' un discorso! E' un discorso!